Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Youtubers Life Ragazzi prima di iniziare il video volevo ricordarvi di lasciare un bel like Cerchiamo di raggiungere i 1000 like per questo nuovo episodio di Youtubers Life Mi raccomando, visto che vi piace un sacco, sto pubblicando tantissimi episodi Cioè, tantissimi episodi, un episodio ogni giorno, quindi più o meno tantissimi episodi durante la settimana E oltre a questo, ragazzi, volevo ricordarvi che trovate qui sotto il profilo di Instagram e di Telegram Dove pubblico in genere aggiornamenti per quanto riguarda il canale e tutte queste altre cose E volevo un attimo parlare di alcune cose che vi avete scritto nei commenti Viene tutto, vi avete scritto di dover fare meglio gli editing, ragazzi, sto cercando di farlo Mi dispiace se non riesco a vedere, diciamo, in diretta i vostri commenti Però come sapete, io pre-registro dei video, quindi è normale che effettivamente alcuni video Diciamo, non hanno i consigli che vi avete dato nelle scorse puntate Però tranquilli, è perché poi li vedo e li metto in pratica Ad esempio, mi avete detto di comprare un nuovo PC e l'ho fatto Cosa del genere? E li ho fatte comunque Quindi, andiamo avanti, abbiamo ben 1200 dollari, ragazzi E io direi che possiamo andare a fare shopping oggi Perché voglio spendere i miei soldi Fottese che ragazzi, ancora l'11, anzi 17 ancora Quindi abbiamo tutto il tempo possibile e immaginabile Per poterci comprare qualcosa di bello dal PC World Infatti voglio comprarmi delle nuove strutture, delle nuove cose Per esempio, voglio un nuovo PC E direi quasi quasi, ragazzi Facciamo il big acquisto Cioè, raga A me è fottese che a me mi compro un PC nuovo Cioè, non mi interessa, PC nuovo Ok, sì, so che non dovrei utilizzare un PC super potente Dalla Madonna, che è molto potente E che fa chissà che cosa Ma perché no, ragazzi Ce lo prendiamo Ed eccolo qua, il nostro nuovo PC 1200 dollari Per camera, ragazzi Ho spiegato tutti i miei soldi Ma facciamo finta Che effettivamente non ne avevamo bisogno Vabbè, ne avevamo bisogno in realtà Dovevamo farlo prima o poi Quindi perché no, l'abbiamo fatto Un'autiloss Andiamo per gameplay Molto scioglio e tranquillo E andiamo quindi per il nostro PC a 60 Perfetto 32 Viable Abbiamo un po' il filter Abbiamo il monodirectional Perfetto E, eh, ah Ah, ops, ho sbagliato E, pop filter Ok, scusatemi Perfetto Andiamo, gameplay tranquillo Alcune cose sono in E ancora in spagnolo Non so perché quando lo gestiranno E quando lo faranno E fintiente Abbiamo un sacco di punti a poter spendere E speriamo fintiente questa volta Di fare una bella cosetta Andiamo un po' che abbiamo speso Allora script Quindi andrei per fare questo Mi faccio un altro script So che effettivamente non dovevo mettere quello Ragazzi, ma quello ce l'avevo E quindi con quello Andiamo noi Bene, bene, bene Vediamo un sacco di questi qua Mi sa che Non so se ce la farò A fare abbastanza roba Sinceramente Technical comment Ancora Eh, ne abbiamo davvero pochi Di sti cosi Poi Eh, siamo messi davvero male Ah, però mi da per due almeno Dai sti cavoli Meno di niente Dovrei aver completato Sì, credo di sì Perché ho finito i punti Perfetto Nuovo gioco Sta per essere rilasciato E vediamo di inserirlo al meglio Allora, vediamo un po' Questo non va bene qua Dovrei poter mettere questo Anzi, se faccio così questi due Dovrebbero andare abbastanza bene Forse Allora Questo che Questo va meglio Va benissimo così Non so come funziona nemmeno Il fatto del puzzle Sinceramente Cioè, non so se c'è un Vero e proprio Modo Modo superandi Di poterlo far funzionare al meglio Credo che sia Il metodo migliore questo Sì, c'è giusto due rossi E per la maggior parte Roba normale Ragazzi, cosa bella Possiamo inserirci tutto quanto Noi se vogliamo Guardate Cioè, tutto possiamo metterci Raga È perfetto Cioè, no, è bellissimo ragazzi 9 ore di rendering Solamente 9 ore di rendering No, raga Io Io mi arrendo Cioè, questo pc È una cosa migliore del genere Ehm Ah Ehm Vabbè, ripaghiamolo effettivamente Ragazzi Merda Pezzo di merda ragazzi Un hacker ci ha contattato Dicendoci che ci ha hackerato qualcosa Pezzi di merda Dobbiamo forza hackerarlo Ad ogni costo Spero che effettivamente Non mi dia problemi In prossimo futuro Anche se Effettivamente Sappiamo come funzionano Questi hacker Oh ragazzi Sta per essere lasciata la zii La zii La zii Che è qualcosa di strano Ehm Perfetto Tornerà a casa Lei andrà a lavorare Nel prossimo futuro Vai a casa Fai quello che vuoi E il nostro gioco è andato abbastanza bene Tranne per il fatto dell'editing Vabbè, lo sappiamo già Però ragazzi Molto molto bene Sicuramente Siamo messi a buon punto Lo vediamo un po' Abbiamo degli eventi Nella prossima settimana Non credo Infatti non abbiamo Nessun tipo di eventi Ah, in realtà abbiamo Un bugene Abbiamo due Ne abbiamo Eh, video deadline Twin Gopper Dobbiamo farci un video Su Twin Gopper ragazzi Davvero Che cosa dobbiamo fare? Non credo abbiamo Una Una cosa su Twin Gopper Ma non ce l'abbiamo Cos'è? Non abbiamo niente Forse dobbiamo andarci In qualche modo lì Credo E magari fatto ragazzi Devo farmi i soldi Perché effettivamente Qua dobbiamo andare adesso A lavorare Per forza Perché abbiamo bisogno Di lavorare Quindi let's go to work Nel frattempo La nostra tipa Farà un gameplay Per noi Make video E possiamo fare Per esempio Vediamo un po' Cosa possiamo fare In realtà Bella domanda Ehm Gli altri giochi vecchi Dobbiamo vendere In realtà ragazzi Dobbiamo vendere Ah eccolo qua Twin E cosa dobbiamo fare? Gameplay walkthrough Ragazzi non so Cosa dovrei fare Sinceramente Andiamo con un gameplay Non sono sicuro Nemmeno di far fare Un gameplay Sinceramente Quindi per ora Li facciamo fare Un gameplay Tranquillamente Va fai il gameplay Ecco che sono stati Rilasciati altri giochi Probabilmente li comprerò Anche Però per il momento Non ci interessa Arrivata Lei farà tutto da solo Quindi nessun problema Per quanto riguarda I soldi Che ci faremo Tanto fa tutto Lei fa Quindi Scialla è tranquilla Cioè fai ciò che vuoi Nel frattempo io vado a studiare Va Tanto ci sta come cosa Sì ma quanto ci metti A fare sto video Vabbè facciamo finta Che sia un video Molto difficile In sostanza E cose del genere Basic video recording Eccolo qui Adesso che ricopriamo Roba ragazzi Perfetto Studiamo un pochetto Nel frattempo che gli altri Ci fanno i video per noi Perché così Funziona sempre in questa maniera Nel nostro mondo speciale Di youtuber's life In cui la gente Deve lavorare al posto nostro E ci sta Devo comprare un nuovo gioco Però Lei sta usando il pc All'aumento Quindi non possiamo fare niente Per Per ora almeno Ok Allora i soldi ci stanno Ragazzi Stanno messi abbastanza bene Devo fare 472 Oh mio dio Ma si è aumentato qualcosa Oddio Ma Ah costa di più Juliana Perché noi ovviamente Li facciamo fare il lavoro E lei costa di più Pezzo di merda E mica è scema la tipa Ok Hai fatto? Fatti il video? Beh L'ha fatto raga Ah ok Si Show result video Vediamo un po' come è andato E è andato così così Ragazzi Ho un po' aumentato di editing Ma noi lo buttiamo comunque Vai sti cavoli Fai l'editing Basta studiare Andiamo a farci anche noi Un bellissimo video Appena possibile Vorrei andare a ordinare Un po' di roba da mangiare Sicuramente Perché sono davvero messo male Con le cose a mangiare Ragazzi comunque adesso Rimane il fatto che è molto più facile fare I video Come vedete Facilissimo Perché effettivamente Ci sta Ok Solita roba del fatto dell'editing Dove se ne ha un po' di editing Forse anche a lei Visto che ci sono Ma mi conviene fare un altro video Anche a noi Visto che ci siamo Allora Ci conviene andare su Naughty Wait Ok Facciamo sempre un altro gameplay Tranquillamente Facciamo una speedrun Appena possibile Ok Questo e questo Andiamo col solito Setup Normale L'ultimo gioco Sembra essere il migliore Quindi perché no Portiamocelo Ok E vediamo un po' Scripting Una cosa che voglio fare È comprarmi tutte le console Che sono esistenti È possibile da comprare Perché ci sono un sacco di giochi belli Che vorrei provare Sulle nuove console Quindi perché no ragazzi Proviamo anche a recuperarli In qualche modo Stavo c'è un nuovo gioco Per la One Station Star Dance Quasi quasi lo compro Perché tanto c'ho la One Station 2 E non è ancora scelta La One Station 3 Quindi questa è una cosa buona Significa che non siamo ancora La generazione Anteceramente a quella A cui siamo adesso O al momento Nella realtà diciamo Quindi siamo abbastanza messi bene 4 Non credo di riuscire a finire Manco questa cosa Abbiamo troppe poche palline Ragazzi Per troppi pochi Troppi cosi Ha il pass Vabbè niente In realtà potrebbe essere Che mi truffa In realtà Quindi Preparisco Farei molta attenzione A questa cosa Ragazzi miei Quindi Mi raccomando Fate attenzione anche voi Vediamo un po' Se mettiamo questo qua Ok Perfetto Va bene questo Ci mettiamo Questo qui Che ci interessa Just che ci serve Smart Focus pure E il background Perfetto ragazzi Meglio di così si muore 9 ore di editing Ma porca merda Ci metto di tutto lì sopra Ok risultati perfetti Ragazzi Abbiamo preso più di 6.000 like 145 dislike Ma per il resto Evitamente abbiamo fatto un sacco di iscritti Da soltanto a quel video Abbiamo tutti i soldi per il momento Sì Abbiamo meno due money Ma ci siamo Perché effettivamente siamo vicini Non so il deadline Come funziona sinceramente Abbiamo Ah è vero abbiamo anche Ad andare a un Ad andare a un Un coso ragazzi A un evento Il 25 credo Il 25 Sì 25 Quindi dobbiamo andarci Effettivamente Appena possibile Sarà una cosa che dobbiamo fare Per forza Togliamo uno slip Tanto devo andare comunque a dormire Il momento Vai farà nanna Povera Pi tipola Pi piccola Povera piccola tipola Vabbè dettagli Ok va bene Sempre il solito dell'editing Migliorerò per l'editing Pezzi di merda Ce la farò Ce la farò prendere tutti 5 i pollicioni in su Appena possibile Abbiamo dormito Abbiamo ancora un paio di ore Prima del nostro giorno Quindi direi Perché no Andiamo velocemente a studiare Ragazzi Perché ci sta È una buona cosa Studiare e migliorare Quindi il nostro Basic editing Video recording Oh ecco Working on the same computer As my collaborators Non era il modo L'efficienza Cioè La decisione è più efficiente Quindi dovevo comprarle Un proprio computer Perfetto Dovevo comprare il proprio computer Ragazzi Quindi sarà un bel problema Buy a new computer E ok Qua sopra Quindi Basic pc 5 Oh perché guarda Scusa Non c'è un pc mio Più che altro sarà sopra Ragazzi delle scale Comunque Giusto per chiederlo Cioè Ovviamente deve andare così Ma Eh Potremmo anche comprarli Ragazzi appena possibile Ma il fatto che Prima di poter fare quella Vorrei in qualche modo Fare qualcos'altro Sinceramente Tipo Comprarmi una nuova console Infatti Voglio comprarmi La Z La z La z Credo sia Z in realtà Non sono sicuro E comunque dovrei preparare Perché adesso ho l'evento Vero Infatti ho l'evento Adesso E I want to let you know Ma dai Eh Ok paghiamolo Sto pezzo di merda Ragazzi Ma pezzo di merda Ma noi abbiamo l'evento Il 25 Non ce l'abbiamo ragazzi Stranamente abbiamo un evento Non ce l'abbiamo più Facciamo finta che non sia Così E andiamo a lavorare A questo punto E dire andiamo a lavorare Ragazzi Andiamo a farci 8 No bugia 8 ore Non posso farlo A questo punto Mi conviene fare un video E lavorare Quindi il co-shopping Spieghiamo pochi soldi Perché non abbiamo così tanti Ragazzi al momento E compriamoci magari Qualche gioco nuovo Che ho visto Per il momento Qui Vediamo un po' Giuli 23 C'è questo qui Che è decente Ce n'è questo Oh questo sono una stella Dai pochissimo A questo punto prendo Beastful Moon Moon Love Che tipo è altissimo E sta anche salendo Del 20 giugno Quindi perché no È una buona cosa Sinceramente Ehm Oh Ragazzi solo tre giorni Fra poco posso farlo Ok comprato Perfetto Abbiamo comprato un nuovo Una nuova cosa Dobbiamo comprare l'ipc Ragazzi a questa Ok Sta per arrivare un nuovo pc Più che altro non riesco a girare Sbaglio Non riesco a girare Non so come si gira Vabbè Facciamo finta che sia una cosa normale Ok open Bene Abbiamo preso un nuovo pc Nuovo gioco del pc Quindi facciamoci un nuovo gioco E Sì direi che quasi quasi Adesso paghiamo un attimo l'affitto Prima di tutto Che ci chiediamo il fastidio dell'affitto E poi andiamo tranquillamente A farci anche quest'ultima cosa Solita roba Orientation Solite cosette Devo comprare un microfono anche Perché ho visto che Tipo quello mio non era al massimo Ce n'è ancora un altro Un crore più potente Perché no Possiamo tentare di prenderci questo Però Sì sinceramente Non so E' un momento Quale mi converrebbe Andiamo a questo Sì andiamo a questo Mi converrebbe comprare un nuovo pc per lei E guadagnare il doppio dei soldi Al momento Oppure mi conviene Effettivamente Migliorare il mio pc A questo punto direi Spendiamo i soldi per lei Così siamo sicuri Che lei possa lavorare comunque Cioè ci dà pochi soldi Ci dà 100 Però Almeno pian piano Migliora E ci dà comunque una mano Non è male Quindi Perché no Ci possiamo levare il fastidio Di torno al momento Si so che sono pronti iscritti Perché non sto pubblicando video Da un po' di tempo Però calma Dammi il tempo Non sono velocissima Abbiamo 10 al momento Madonna Raga 10 Non ce la farò mai A farne tutti i 10 Sono tanti i 10 Sono troppi 379 Buono Ok andiamo a editare Ragazzi abbiamo quasi 300.000 iscritti Spero che questa puntata Entro questa puntata Riusciamo a farli 300.000 iscritti Perché sarebbe anche un'idea E allora Vediamo un po' di gestito Al meglio No Questo va meglio Perfetto Ho un po' capito Come funziona Non troppo Ma più o meno Un po' l'ho capito Sinceramente E no Vediamo un po' Se riusciamo a vettere qua Ok così va meglio Sì direi questo Lasciamolo perdere Ragazzi tanto abbiamo fatto Questa cosa Ah forse questo C'è solo un rosso Però è solo un piccolo rosso Quindi non è un grande problema Soft focus Adjust E no musica Tanto abbiamo un sacco di musica qua Ragazzi guardate i money Che arrivano Abbiamo 900 money Perfetto Possiamo pensare adesso Di comprarci anche La cosa per la tipa Tanto abbiamo abbastanza soldi Per poterlo fare I want to shot No grazie Già non mi interessa Compriamo l'ipc Ok ragazzi Adesso possiamo farlo E Va bene Va bene Non era proprio il massimo Posso migliorarlo in futuro Infatti possiamo migliorarlo in futuro Ragazzi se vogliamo Andiamo sopra Velocemente Ora faccio vedere Che possiamo tranquillamente farlo Odio pagare 500 la tipa Ma credo di farcela In realtà Abbiamo ancora due giorni Vedete Guardate i pc Info E' un pc Quello base Quello che avevo già al momento io Però potrei comunque Upgradarlo in futuro In teoria Più che altro Non dovrei avere già un pc Cioè quei miei vecchi Perché quei miei vecchi Li ho buttati in sostanza Scusami Come funziona sta cosa Eh mi sembra Tanto tanto ragazzi Che quei miei vecchi Li ho buttati Perché non li posso utilizzare Quindi devo migliorare Pure il pc A sta stronza Vedete Devo farlo lavorare Per me Devo pure migliorare le cose Pezzo di merda Ah Editing Merda Solito Andiamo a lavorare Per 20 dollari Perché mi servono ragazzi I soldi Perché sennò Andiamo in rovina E non ci sta Abbiamo qualche party Sì Sono tanto party In genere cose stupide Non troppo attraenti In realtà Fatto Grande Perfetto Quindi possiamo tranquillamente Adesso andare a dormire Perché abbiamo un sacco Di sono arretrato Amica bella Fai un corso Take a course Ok Eh no bugia Non ti posso far fare niente Posso fare un momento Vabbè Sti cavoli Magari vai dopo A far qualcos'altro In futuro Chissà Domani E vabbè Dai prendiamo Non lo voglio Ok E va bene Non sappiamo se Era una cosa buona Oppure decente Oh mio dio Dove prendiamo Coppi i soldi Adesso Che pale Mi sono dimenticato Questa cosa Ragazzi È importantissimo Sei ore E amica bella Fammi un video Fammi Su quello nuovo Quello mio Stato Perché Non lo sto usando Children Oh beh 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 Non era male Ragazzi Oh Uscita adesso Uscito Oh cristo Ragazzi First impression Cioè Ci sta un sacco Fai first impression Ah Devo comprare la console No Dai Che palle Make video Porca vacca Ragazzi Merda Non me ne sono ricordati Che palle Vabbè Facciamoli fare sto video Allora dai Starting video Nel frattempo Sì sì Tutto a posto Fai di continuo Fai di tutto automatico Scialla Tu vai a lavorare Velocemente Che hai bisogno di soldi Bisogno 40 Velocemente L'area che manca l'ultimo giorno Il 30 luglio Si avvicina Dobbiamo ricoprare i soldi Prima che ci cacciino fuori di casa Ragazzi Perché non ho voglia di essere cacciato fuori di casa Sapete in sostanza che Ci tengo un po' la mia casetta Al momento E sta stronza non fa niente Per potermi Ricoprare gli oggetti Quindi Sei proprio stronza Perché altri soldi li guadagno Però ci vuole un paio di giorni Per riceverli E quindi Ho un po' di problemi Da questo punto di vista Ma ci sta ragazzi Ci sta Fin fine è una buona cosa Ok Finiamo Il nostro curso Ragazzi Ah l'abbiamo finito Mi sa il corso Eh mi sa tanto di sì Perché abbiamo fatto così tutti Abbiamo fatto l'intervento Il video editing L'abbiamo finito Ci servirebbe fare il prossimo In futuro Ma aspettiamo un attimo Che arrivi La fine della giornata Non abbiamo nientato davvero Nuovi giochi Che vengono rilasciati Niente Sì la Wii Cioè a parte la Wii U In realtà che è stata rilasciata E dobbiamo prenderla Va bene Va bene Direi andiamo a lavorare A questo punto Ci facciamo più soldi possibili E speriamo Effettivamente di fare Altra roba Ma tempo Comunque sta ancora pubblicando Libri Cioè libri Bidi Video normali E funzionale Nel momento Ok dai finisci sto giorno Dai che devo pagare la mia retta Così vedo quanti soldi ho E quanti soldi non ho In realtà Nel momento Per uscire ragazzi E niente Ho aspettato che quella Ritorna ragazzi Perché per ora È normale così Ci sono risultato il video Vediamo un po' come è andato Si sta migliorando Le pian piano Ma sta migliorando Si sta Quindi adesso lo pubblichiamo Anche eccola qua ragazzi Il nostro nuovo gioco Abbiamo bisogno di prendere Una nuova console Per poterlo comprare E acquistare Il prossimo evento Quando è? Il 2 agosto Ragazzi abbiamo un evento Perfetto Mentre l'altro è il 15 Quindi abbiamo un po' di tempo Direi andiamo a dormire Ok Abbiamo Piuttosto Tanti soldi In realtà Come è stato dato questo? È stato abbastanza bene Commenti? Si soliti commenti Rilati Quindi va bene 430 passa dollari Quindi dovrei farcela Comprarlo Tipo domani Il La mia console Credo non costi più di 400 Dai costa troppo 400 Parliamone C'è un amico qui No grazie Non vogliamo venire dal tuo party Vattene a cagare Vattene a casa tua Di nuovo Poveretto ragazzi Ogni volta vieni cacciato di casa Ok Pagato l'affitto ragazzi Abbiamo anche nuove cose Finalmente Abbiamo questo Collaborazioni Quindi posso collaborare adesso Credo poterlo fare anche con lei Infatti posso fare Collaborate in una video E abbiamo pagato anche l'affitto ragazzi Quindi felicissimo di questa cosa Al momento Yeah Ci sta E compriamoci la console Dire sì Compriamoci la nostra bellissima console E scopriamo effettivamente Come dobbiamo fare Ancora E paghiamo sti soldi Ragazzi Sto pezzo di merda Non la smette di rubarmi cose Allora Ah non ce l'abbiamo la Nikos L'abbiamo comprata Abbiamo comprata un po' di tempo fa Possiamo comprarci La Nintendo Ok 249 Possiamo comprare anche questo No non ce la faccio In realtà peccato Cioè Buia Sì in realtà non ce la faccio Per comprarmi anche la PSP Ma tanto la PSP è un po' vecchiotta Compriamoci con la nuova Che ci sta Devo comprarmi la Oni Station 3 ragazzi Ci sta Ci sta Devo comprare la prima possibile Perfetto Abbiamo una nuova console Possiamo andare a registrare Quindi il nostro nuovo video Sul gioco che ci hanno dato Una speedrun vogliono Spero che vada bene Che la gente apprezzi comunque In realtà Savage Che è un nuovo gioco Uscito Cioè è uscito un po' di tempo fa Però sti cavoli Andiamo a fare Speedrun Perfetto E lo pubblichiamo qua Su questo pc O te ci metterà un'eternità A pubblicarlo qua Però facciamo finta Che sia comunque decente E funzionale Ok Eccolo qua il nuovo gioco Il nuovo gioco No la console nuova è Non posso mettere quello Quindi andiamo con questo Previsco più iniziare In questa maniera Vediamo un po' Quanto riusciamo a fare Copyright ragazzi No fin quando non raggiungiamo La nostra nuova casa Copyright zero Evitiamoli altamente Ragazzi Completamente Ok 13 Dovremmo riuscire a farci Abbastanza roba Credo Eh si 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 Eh niente Buttiamoci questo A questo punto E basta Credo debba fare l'ultima parte Che è questo Oh merda Eh Devo andare all'evento Non posso fare niente Dio santo Eh questo non lo avetto La parte finale Posso sempre non mettere Durante il Nostro coso Quindi next Andiamo a pubblicare Velocemente questa cosa Ragazzi E anzi Vi direi ragazzi Che per questa puntata Potrebbe essere anche tutto Allora abbiamo preso Una nuova console Visto che c'ero Perché insomma È carina Ci sta Pubblichiamo in un certo modo I nostri I nostri I nostri Vei video Vediamo un po' Se la facciamo A fare in questo modo Ok Vuole il copyright Devo levarlo eh Eh No Non riesco A fare del mio meglio Sinceramente In realtà possiamo Anche metterlo così Tipo Ok Forse è meglio così Questo Dovevo buttarlo comunque Perché in realtà è copyright Più o meno è decente Non è funzionale Ma è decente Quindi ci può stare Ci buttiamo questo Ci buttiamo questo Ci buttiamo questo E questo Ok Processiamo Andiamo a farci questa roba Andiamo all'evento Va Sti cavoli Ragazzi Io direi che Prima di andare all'evento Noi ci veniamo qui Per questa puntata Vi ringrazio ancora Per avermi seguito Per questa nuova puntata Di Youtubers Life La prossima puntata Andiamo a vedere Sicuramente Nuove cose per la casa Perché voglio comprarmi Degli oggetti per la casa Che sa perché Non ho ancora fatto Sinceramente E prima di trasferirmi Voglio degli oggetti carini Che potrei potenzionare Un po' ovunque Nella mia casetta Dari se è tutto Ci vediamo presto Con un nuovo video Ciao ragazzi